Benvenuti tifosi napoletani. In questo video, vi portiamo le ultime notizie che rivelano i cambiamenti nella squadra del Napoli. Quindi iscriviti al canale e attiva la campanella. Napoli e Verona si preparano allo scontro decisivo questo sabato, per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Con l'obiettivo di avvicinarsi ancora di più allo scudetto, la squadra azzurra ha presentato novità nel suo ultimo allenamento. Il brasiliano Quangisus dovrebbe occupare la posizione difensiva centrale insieme a Matia Solivera, mentre Irving Lozzano è stato messo alla prova come ala sinistra. Il tecnico Luciano Spalletti ha tenuto segreta la formazione ufficiale e ha lasciato aperta la possibilità che Quarazchelia possa partire dalla panchina. La grande novità della convocazione è stata la presenza di Victor Osiman, che può entrare in campo all'occorrenza, dopo essere stato a riposo nelle ultime partite per infortuni. Nella mia analisi vincere oggi è fondamentale per accelerare il cammino verso il titolo di campione e, quindi, non è il momento di pensare alla gara contro il Milan. E voi tifosi, volete vedere Osiman entrare in campo oggi? Lascia il tuo commento e torneremo presto con ulteriori aggiornamenti. Sempre Forza Napoli!